e bella a tutti ragazzi sono epicquid e oggi siamo su zombie in fuga ovvero c'è data di cappuccetto rosso si che deve scappare dai zombie da quel che ho capito io scusate continuo il gioco è l'apocalisse degli zombie di notte dominavano i loro corpi in decomposizione si è sparsa la voce di una cura miracolosa ben nascosta nel regno dei morti il giglio della vita la leggenda dice che concerne delle proprietà misteriose in grado di curare il virus degli zombie nonostante in tanti ci abbiano provato nessuno è mai tornato vivo dalla fortezza degli zombie ma tutto questo sta per cambiare armata della sua candela magica la piccola maria ma con coraggio alla ricerca e che cacchio ma comunque raga è a me ma non è tutto il cappuccetto rosso ce l'ho a guardare 3 secondi va bene riaccomi non l'ho trovato ma io avevo letto così va bene è nuovo allora a a madonna come cazzo era da salti attaccare it's o cap amadosca preleggiarmi in ogni livello lì 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 o che volevano sp2 aia aia ok ok attendere alizia al volo vuori cacchio pure te aia agli aiutini cioè oh vaffanquero aia aspettate ce la fa accendi le fiaccole e sta accendendo le fiaccole e dove grazie non riesco ad arrivare allora ma dai che ci vuoi perchè lo sto a fare almeno non faccio durare il video trovo trovo il più per disponibilizzare la sua arma ho capito il tasto ok non mi camminava più oggi una vita vaffanculo vaffanculo una gemma how it survives per attraversarla ok ecco l'idea di più il più soccata una nuova arma continuo il gioco ho capito l'ho appena fatto no bastardo no no e beh che cavolo per aspettare come ragazzi scusate ho trovato il modo per fare i video con la tv senza che vengono quelle strisce dopo a a fine video vi farò vedere cazzo cazzo la salta stupida è impossibile attraversarla ok una va giù e una va di la oh già cazzo la porca miseria ce la devo fare ce la posso fare vai ho trovato un modo forse venga ok ce l'ho fatta si ok basta ho saltato epicamente ok scusate sto ancora male però mi passerà presto spero mamma mia mamma mia sono forte mamma mia che boss come se ho la freccia in giù per attraversare una porta avverta ah ok come se la colpita nemmai io oh vaffanculo vecchia del cazzo ma che sono quei cossini vabbè aah che palle ok 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 diciamo che può bastare comunque ragazzi se il video vi è piaciuto cliccate mi piace commentate oppure se non siete iscritti iscrivetevi aspettate una telecamera e tanto funziona cioè l'ho messa per due giorni a caricare e a carica punto comunque ragazzi e noi ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao